Effettivamente sì, un prestigioso riconoscimento, sono stato designato componente della Commissione Cultura presso il Consiglio Nazionale Forense. Lo scorso 16 novembre ci siamo riuniti alla prima adunanza della Commissione dove tutti gli 11 componenti della Commissione, tra componenti esterni e consiglieri nazionali forense, abbiamo avuto modo di riunirci per parlare delle attività culturali che verranno poste in essere da qui a breve ma anche nel prossimo futuro. Come Coa di Palmi sono soddisfatto e vado orgoglioso di aver presentato il progetto del museo che è stata un'idea che è nata appunto dal Consiglio dell'Ordine di Palmi unitamente al Comune di Palmi in sinergia per portare avanti la cultura nell'ambito di quella che è l'avvocatura. E quindi un museo dell'avvocatura e del diritto che da qui a breve, prima dell'estate, come già abbiamo avuto modo di comunicare, nascerà presso la Casa della Cultura Leonida Repaci. Le attività culturali di cui si occupa questa Commissione sono importanti perché hanno diverse finalità. Quelle di portare avanti la storia dell'avvocatura, il buon nome, l'immagine, ma nel contempo anche di portare avanti la cultura della legalità e tutto ciò che di buono ne deriva nell'ambito di questa professione che a mio modesto avviso è tra le professioni più belle al mondo. Non a caso appunto sono e mi sento di essere un avvocato. Oltre a questo, naturalmente, questa Commissione è una Commissione importante, è tra le più importanti del CNF. Quanto per dirne, fare qualche nome, già hanno fatto parte di questa Commissione il professore Guido Alpa. Attualmente il coordinatore della Commissione è il collega Demetrio Rivellino del Foro di Campobasso, attuale consigliere nazionale forense e io appunto lavorerò al suo fianco unitamente agli altri componenti della Commissione. Peraltro l'avvocatura in questo frangente storico è rappresentata degnamente su scala nazionale già dal nostro vicepresidente nazionale, l'avvocato Francesco Napoli. A cui vanno i miei ringraziamenti anche per aver dato adesione a questa mia nomina. E quindi, che dire, palmi su scala nazionale, oggi l'avvocatura conta e conta tantissimo. Grazie. 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 Grazie.